Ciao a tutti, sono Alexa Ardito, 17 anni e frequento la quarta WV dell'Istituto Alessandro Rizza. La mia più grande passione è l'arte in tutti i suoi aspetti, per questo spero da grande di riuscire ad essere un grafico o un professore di storia dell'arte. Partecipare a questo progetto per me è stato molto importante perché mi ha dato modo di esprimermi al 100% e soprattutto mi ha dato modo di conoscere il personale del settore grafico, che vada oltre ai miei professori. Ringrazio i miei professori che comunque mi hanno spronato in tutti i modi e mi hanno fatto avvicinare al teatro. Avvicinandomi al teatro ho scoperto che il teatro è un modo per molti di far uscire una parte di se stessi che spesso durante la vita di tutti i giorni non esce. Per questo nel mio lavoro ho rappresentato una dea greca che si rispecchia. Ho rappresentato lo specchio perché credo che lo specchio sia l'unico modo che ognuno di noi ha per vedere effettivamente se stessi. Questo è il mio lavoro.